Ciao amici, bentornate sul mio canale! Nel video di oggi andremo a personalizzare una tenda! Voi vi chiederete perché devo personalizzare una tenda? Semplice! Molte volte dentro le nostre abitazioni abbiamo delle tende comprate tantissimi anni fa e per vari motivi poi dentro casa abbiamo cambiato alcuni elementi degli arredamenti non so, il divano, i cuscini, eccetera, quindi quelle tende un po' stonano Io ho pensato, perché anziché prendere e quindi affrontare una spesa così grande e sostituire la tenda perché non personalizzarla? Così da richiamare quegli elementi che abbiamo sostituito negli anni oppure magari abbiamo un'attività, in questa attività abbiamo dei camerini e questi camerini, se avete notato, hanno sempre delle tende monocolore e lunga andà, insomma, diciamo, potrebbero stancare perché non personalizzarli? Magari mettendo il logo dell'attività oppure magari mettendo una frase carina, simpatica e così chi va nel camerino magari si fa anche due risate insomma, perché non abbellirle? e come l'andremo a fare questa personalizzazione? L'andremo a fare utilizzando i termoviniti della B-Flex Bene, quindi se anche voi volete personalizzare, cambiare le vostre tende renderle più fresche, più vivaci e più, insomma, più abbinabili all'ambiente che le circonda se siete capitate nel tutorial giusto perché vi farò vedere che veramente con pochissimi passaggi avrete delle bellissime tende ma adesso, come dico sempre, bando alle sanse e all'opera! Per la realizzazione di questo progetto andremo a utilizzare la serie Sandy Glitter, che sono questi due la serie 700 bianca e la serie Glam, questa qui tutta colorata fino adesso non avevamo ancora vista questa serie e adesso vi farò vedere quanto è bellissima e meravigliosa una volta che abbiamo ritagliato il nostro progetto quindi dopo aver preparato il nostro progetto e averlo specchiato perché mi raccomando, per quanto riguarda i termovinili vanno sempre specchiati i nostri lavori perché li andremo a tagliare al contrario cosa dobbiamo fare? prendiamo il primo termovinile c'è una parte lucida e una parte opaca mettiamo la parte lucida sul tappetino e la parte opaca rivolta verso di noi in questo modo cerchiamo di farla aderire bene al tappetino quindi io mi aiuto con questa spadolina facendo questo lavoro così che aderendosi bene al tappetino il taglio riesce meglio per tutti coloro che acquisteranno i termovinili della Biflex oltre ad acquistarli quindi col mio codice sconto che trovate in descrizione se avete dubbi riguardo il taglio io ho plotter da taglio sia questo della Cricut ma anche il Lanjoy e ho anche il plotter da taglio quella della Canvas serie 900 quindi se avete dubbi e quindi non sapete come impostare il taglio scrivetemelo così se avete una di queste tre macchine io vi potrò benissimo rispondere dicendovi quali sono le impostazioni che utilizzo io per queste macchine e adesso procediamo al taglio e adesso spellicoliamo quindi prendiamo il nostro spellicolino partendo da un angolino tiriamo su in questo modo e poi basterà tirare vedete? viene via in modo facilissimo velocissimo poi basterà ripulire le parti interne quindi sempre con il nostro spellicolino puntiamo tiriamo su un angolino e tiriamo e adesso facciamo tutti gli altri quello che vi volevo far vedere adesso è una cosa i termovinili della Bflex hanno il liner molto 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 aderente quindi hanno una buona colla se noi vogliamo quindi applicare un pezzo che o si è spostato o che magari lo vogliamo mettere noi in un secondo tempo possiamo benissimo prenderlo e metterlo rimarrà attaccato benissimo come guardate questo perché? perché questi liner hanno una forte aderenza addirittura una volta che noi li abbiamo utilizzati poi vi farò vedere possiamo anche riposizionare magari degli scarti che abbiamo avuto quando lo siamo andati a spellicolare comunque adesso passiamo alle schede tecniche così che vi spiego ogni serie come va applicata come ho già spiegato in altri video riguardo alla scheda tecnica in alto abbiamo il nome quindi della serie che abbiamo acquistato sotto subito sotto abbiamo scritto che cos'è e quindi come si presenta in basso a sinistra abbiamo il QR che andandoci sopra possiamo vedere step dopo step come funziona quindi come va effettuata l'applicazione tramite un video mentre a destra abbiamo le istruzioni nelle varie lingue e anche qui quindi abbiamo la spiegazione passo dopo passo come va applicato il termominile poi abbiamo le info nelle info troviamo scritto dove si può applicare il termominile o meglio dove la casa vi consiglia di applicarlo e vi garantisce che lì va bene poi sotto troviamo il ferro da stiro allora per quanto riguarda il la serie Sandy Glitter qui troviamo scritto che con il ferro da stiro dobbiamo metterlo alla massima temperatura ovvero tre pallini per 25 secondi una pressione alta e il liner va rimosso a caldo mentre per la pressa abbiamo come indicazioni che va messa a una temperatura di 150 gradi per 20 secondi una pressione media e il liner va sempre rimosso a caldo può essere lavato a 60 gradi può essere messo in asciugatrice alla rovescio se il cavolo permette in questo caso una tenda quindi no ma non può essere lavato a secco per la serie Glam invece oltre a tutte le indicazioni che già vi avevo spiegato abbiamo per il ferro da stiro dobbiamo metterlo alla massima temperatura quindi tre pallini per 20 secondi con una pressione alta e il liner va rimosso a freddo per quanto riguarda le presse invece dice che va messa la pressa a 140 gradi per 20 secondi con una pressione media e il liner va sempre rimosso a freddo la temperatura di lavaggio è di 40 gradi non può essere messa in asciugatrice non può essere lavato a secco poi abbiamo la serie 700 per la serie 700 per la serie 700 ci viene indicato per il ferro da stiro la massima temperatura ovvero tre pallini per un tempo di 10 secondi una pressione alta e il liner va rimosso a caldo mentre per quanto riguarda la pressa dice che la temperatura è di 140 gradi per 10 secondi una pressione media e il liner va sempre rimosso a caldo può essere lavato a 90 gradi può essere messo in asciugatrice può essere lavato anche a secco ovviamente siccome che nel nostro caso abbiamo inserito anche altri tipi di termovinili che invece non possono essere lavati a 90 gradi a secco in asciugatrice vorrà dire che dobbiamo prendere in quel caso il termovinile quello con la temperatura più bassa e appunto non può essere ne asciugato in asciugatrice e ne lavato a secco adesso vediamo l'applicazione per l'applicazione siccome che questa applicazione la dobbiamo mettere sulla tenda io come prima cosa vado e posiziono quindi i miei pezzi direttamente sulla tenda attaccata poi stacco la tenda e poi con la pressa andrò e presserò il tutto io andrò ad utilizzare il tappetino della bflex non da questa parte ma dal lato opposto di dove c'è scritto il nome perché questo è il lato creato fatto apposta proprio per far uscire bene poi le nostre applicazioni guardate che meraviglia guardate che luce che brillantezza sembra quasi specchiato è stupendo guardate quanto sono belli pure la serie 700 semplice pulita ma adesso vi volevo far vedere una cosa allora all'inizio vi ho detto che ci sarà una chicca la chicca è questa quando vi avanzano alcuni pezzi di termo vinile tipo questo qui abbiamo spelliculato è rimasto però magari qui potremmo farci una scritta potremmo riutilizzarlo per altri lavori cosa dobbiamo fare allora prendiamo il nostro liner come dicevo prima il liner è molto adesivo molto aderente questo è il liner che ho utilizzato per la farfalla non so se si vede i segni della farfalla comunque cosa faccio io la parte dove appunto c'è la colla vado e rimetto la parte che voglio riutilizzare poi in futuro quindi rimettendola in questo modo io la vado a riutilizzare per un'altra volta l'unica cosa è che dovete farla aderire molto molto bene e dovete cercare di evitare che si creano bolle altrimenti col taglio potrebbe non uscire bene quindi una volta che l'abbiamo fatta aderire bene abbiamo levato tutte le bolle questo può essere utilizzato per magari creare un cuoricino per crearci non so qualsiasi altra cosa a noi potrebbe servirci poi per altri lavori futuri quindi non buttate mai se avete dei pezzi grandi che questi pezzi che insomma possono poi essere utilizzati e non buttate il liner perché può essere riutilizzato anche lui questa è una cosa che fa la biflex perché gli altri invece poi vi dicono comprate il liner e potete riutilizzare i pezzi invece quello della biflex non serve ricomprarlo perché questo può essere utilizzato anche se avete messo la termopress o il ferro da stiro sopra comunque la colla continua vedete continua ad attaccare adesso invece andiamo e vediamo il lavoro terminato quindi appendiamo la tenda e vediamo come è uscito bene amici e qui si conclude il nostro video spero che vi sia piaciuto io lo trovo stupendo se volete mi potete scrivere qui sotto quale tra le serie che abbiamo utilizzato oggi è la vostra preferita vi ricordo sempre qui sotto troverete il link per l'acquisto di questo di questi termovinili che abbiamo usato oggi ma anche di altri termovinili e il mio codice sconto così da poter comprare appunto questi termovinili a un prezzo più vantaggioso se avete dubbi e domande scrivetemi così che vi posso rispondere se il video vi è piaciuto mettete un bellissimo like e condividete 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 così che il canale può crescere se ancora non siete iscritti al mio canale iscrivetevi e accendete la campanellina se poi non vi siete iscritti agli altri miei social io qui sotto vi lascio tutti i link così che potete andare e iscrivervi adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao amici a presto a presto a presto